bene buongiorno buongiorno a tutti oggi parliamo di scioperi venerdì 17 è previsto uno sciopero generale che riguarda vari comparti c'è anche la scuola la scuola si fermerà per 24 ore lo sciopero indetto in particolare dalla cgl e dalla will e partecipano per la scuola la flc cgl e la will scuola rua abbiamo collegata con noi gianna fracassi leader della flc cgl buongiorno fracassi buongiorno a tutti e tutte allora fracassi si arriva a questo sciopero tra l'altro anche con una diatriba in atto con il garante degli scioperi però ecco voi come sindacato andate dritti ci spiega un po ecco in pochi secondi cos'è successo in questi ultimi giorni riguardo questo problema appunto sull'opportunità di fare indire uno sciopero il venerdì 17 e poi ecco entriamo nel merito sulle motivazioni che vi hanno portato a questa protesta ma allora intendo chiarire che i nostri settori non sono toccati dai rilievi del garante quindi questo è bene dirlo sono alcuni settori in particolare sui trasporti igiene ambientale e vigili del fuoco e lì in questo caso il garante con una serie di motivazioni legate alla mancanza di rarefazione insomma non entro nella parte tecnica ha chiesto una rimodulazione ehm dello sciopero noi come organizzazione abbiamo detto che eh trattandosi di sciopero generale non dicono quelle regole che invece presiedono in caso di scioperi settoriali e qui si è aperta una discussione che eh tra l'altro sta continuando ad andare avanti tutta questa discussione seppure inserito il ministro ehm dei trasporti il ministro dei trasporti delle infrastrutture che ha eh minacciato precettazioni in modo diciamo abbastanza poco rituale per eh un rappresentante importante del delle istituzioni quindi però noi andiamo avanti in quei settori scuola università ricerca alta formazione artistica formazione professionale non sono toccati da questa ricerca bene perché un lavoratore di questi comparti dovrebbe eh scioperare e dire no con forza la legge di bilancio ma il primo motivo quello direi più importante è perché i lavoratori dei nostri settori eh sono stati colpiti duramente come tutti eh non solo i nostri settori ma in modo particolare eh i nostri settori perché mediamente abbiamo come sappiamo stipendi piuttosto bassi rispetto sia alla media europea ma soprattutto la media anche eh nazionale del pubblico impiego se prendiamo riferimento eh alcune categorie quindi la prima motivazione è scioperare per avere le risorse necessarie per rinnovare i contratti collettivi nazionali il contratto ventidue ventiquattro quindi un contratto che sta per scadere tra poco più di dodici mesi che arriva ritualmente in ritardo e questo è un problema per il nostro sistema paese direi non soltanto per le condizioni salariali delle persone che rappresentiamo e soprattutto un contratto che ha risorse limitate sappiamo tutti che la legge di bilancio ha collocato eh per questo triennio cinque miliardi c'è un anticipo che viene attribuito a immagino dicembre eh che noi abbiamo definito il pacco di natale che è una sorta di eh indennità di vacanza contrattuale rafforzata eh che in qualche modo dovrebbe blandire la categoria rispetto al fatto che in realtà le risorse coprono a mala pena eh neanche l'inflazione cumulata l'inflazione mi scusi del primo anno del triennio cioè che intendo dire intendo dire che se prende riferimento solo il 2022 le risorse che il governo ha messo per tutti i tre anni eh non servono a coprire l'erosione stipendiale di un anno. L'indennità di vacanza è passata dall'uno all'uno e mezzo al 6-7 per cento quindi questo è il eh lo sforzo che tra l'altro bisogna dirlo non era mai accaduto ora eh che fosse eh diciamo ceduta una indennità così importante però ecco c'è anche c'è anche viviamo una situazione di inflazione veramente pesante quindi no 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 allora una cosa mi scusi il 6,7 non è il livello di inflazione assolutamente no 6,7 è una moltiplicazione della indennità di vacanza contrattuale che fa esattamente i 2 miliardi che hanno partecipato guardi non c'entra niente con l'inflazione quindi però comunque vengono arrivano nelle tassi. Il ministro dell'economia ha indicato l'ha detto lui questa cifra copre il 5,78 allora noi abbiamo un'inflazione cumulata che sfiora il 18 per cento questi sono i dati contestabili diciamo. Quindi quello che serviva era almeno il triplo di quello che è stato dato questo in sintesi. Se si vuol dare una risposta all'erosione degli stipendi che sono stati ridotti del 18 per cento è chiaro che devi aumentare enormemente le risorse. Quindi voi vi aspettate. Nessuno qui immagina immagina che si possa arrivare al 18 per cento anche se sarebbe auspicabile però sicuramente non è neanche accettabile che tu non riesci a coprire neppure l'inflazione di un anno e tra l'altro con una previsione che è ottimistica in legge di bilancio per il prossimo anno si parla del 2,5 ma che è pessimistica guardando a quello che accade intorno a noi perché il rischio invece di un'inflazione alta che si mantenga alta anche nel 2024 è molto forte ma d'altra parte chiunque di noi nella nostra vita ordinaria lo comprende benissimo che la coperta sta diventando molto molto corta. L'indernità di vacanza contrattuale andrà a coprire la maggior parte dell'aumento oppure vi aspettate un incremento importante tale da poter poi così come dire finalmente soddisfare i lavoratori? No l'indernità di vacanza contrattuale che viene erogata nel mese di dicembre questo emolumento diciamo questa l'indernità potenziata data tutta in una volta che in realtà però è relativa al 2024 vorrei ricordarlo cioè viene anticipata è all'incirca come dire vale per il per i lavoratori 7 800 euro l'ordi dipende ovviamente dalle qualifiche ma non è l'incremento annuale ovviamente ok ma non è non può essere l'incremento e non può essere neanche quella cifra che sono 2 miliardi l'incremento cioè noi abbiamo complessivamente a disposizione tra l'altro in legge di bilancio c'è un passaggio da verificare perché si dice che i 5 miliardi ci sono a decorre dal 2025 e bisogna comprendere che cosa significa questo questo passaggio ma al netto di tutto questo sono le risorse complessive che non sono sufficienti lo ripeto i 5 miliardi non l'indennità i 5 miliardi quelli previsti non per la scuola per l'università per la ricerca per tutto il pubblico impiego sono coprono il 5 e 78 di inflazione questo è il dato che è stato comunicato al governo questo questa cifra non è sufficiente quindi quindi la protesta in primo luogo è per questo per difendere i salari delle persone che rappresentiamo ed è una protesta importante direi no perché mi spiego meglio quando andrete poi a contrattare gli aumenti veri questa parte sarà ormai esaurita allora il rischio è che se gli aumenti saranno non particolarmente importanti poi la contrattazione in qualche modo potrebbe come dire anche essere non dico inutile ma svalutarsi ecco questo non lo reputa un rischio no allora lei ha toccato un punto importante tra l'altro facendo questa operazione cioè dando sostanzialmente questo emolumento accumulato si bruciano i 22 miliardi dei 5 quindi noi ne andremo a portare sostanzialmente 5 perché non è che possiamo togliere dalle tasche dalle persone questa operazione che è un'operazione unilaterale tra l'altro illegittima perché nel nostro ordinamento ad oggi tutti gli aspetti retributivi devono essere collocati e contrattati dalle rappresentanze dei lavoratori e non gentilmente concessi dal datore di lavoro quella è un'altra epoca che abbiamo chiuso quella delle gentili concessioni oggi ci sono i contratti e ci sono le rappresentanze che ovviamente fanno la contrattazione rappresentando i bisogni delle persone se non siamo in un'altra dimensione che non voglio neanche citare diciamo nel rapporto tra lavoratori e governo bene chiudiamo questa parentesi sul contratto io farei una puntatina al vostro contratto c'è un contratto da chiudere in via definitiva sulla base dell'accordo del 14 di luglio e c'è un nuovo contratto invece quello di cui abbiamo parlato finora che è poi tutto ancora da costruire facciamo un po in un minuto un po il punto della situazione e quando è che poi arriveranno così possiamo annunciare anche questo questa piccola parte di soldi che erano stati appunto decisi in estate si allora premesso che poi le motivazioni in realtà dello sciopero sono il rinnovo del contratto e le risorse sono una parte c'è la questione della del precariato si si poi parliamo di questo io ho detto chiudiamo chiudiamo questa parentesi si poi parliamo della delle pensioni per calare e quant'altro no allora guardi l'ipotesi di contratto sottoscritta luglio è nella fase dei controlli io credo che ci siano in questo momento in questa fase le interlocuzioni di rito tra aran e ministeri in particolare ministero dell'economia delle finanze dopodiché il passaggio successivo è dipartimento funzione pubblica consiglio dei ministri direi che siamo in dirittura d'arrivo cioè io credo che nell'arco di un mese possiamo arrivare alla sottoscrizione definitiva anzi lo auspico perché è bene che queste risorse perché il contratto anche distribuito una parte di risorse venga immediatamente effettivo certo e invece per il nuovo quali sono le prospettive non dipende da voi voi vorreste magari già a gennaio però cominciano a circolare voci di fine 2024 il che sarebbe terribile no ma certo perché stiamo parlando di un contratto che sostanzialmente già scaduto però è molto difficile fare un contratto senza risorse quindi è chiaro che qui c'è un tema che impegnerà la nostra organizzazione a partire da venerdì perché sopra importante ma se non avessimo risposta noi continueremo perché ovviamente noi abbiamo bisogno di dare sostanza c'è un tema che si chiama valorizzazione del personale e la valorizzazione purtroppo non si fa né con i fichi secchi neanche con la scontistica si fa con le risorse e per farciò bisogna che il nostro datore di lavoro che in questo caso è lo Stato collochi nelle leggi economiche le risorse necessarie se non lo fa come abbiamo sempre fatto attiveremo le iniziative di mobilitazione necessarie. A questo proposito voi avete come scuola università e ricerca anche programmato delle proteste locali inizierete nelle prossime ore a Roma e davanti alla CGL e poi continuerete con varie attività credo anche per diversi mesi ecco può fare un po' il sulto della situazione riguardo queste proteste? Ma allora non voglio rivelare quello che diremo nella conferenza stampa. No no però ecco non so è programmato però sì è vero è corretto noi inizieremo una sorta di chiamiamolo viaggio per spiegare in tutti i territori del paese quelli che sono i rischi e pericoli di questa fase non soltanto legata appunto a quello che si sta prospettando per la scuola per l'università per la ricerca ma anche soprattutto il pericolo che rischia di correre il nostro paese se il disegno di legge sull'autonomia differenziata diventasse appunto legge sarebbe devastante in particolare per il sistema scolastico per l'istruzione pubblica ma non solo per l'istruzione pubblica noi ci concentreremo ovviamente su istruzione e ricerca scientifica tecnologica perché sono due materie che vengono date nella possibilità delle regioni di essere appunto regionalizzate quindi scelte come materie da regionalizzare però il tema per noi è soprattutto la frantumazione del sistema di istruzione e poiché c'è qualcuno che pensa di come dire che questo sia vantaggioso e voglio ricordare che non lo è affatto il modello è quello è il modello molto simile quello che si prospetta al modello sanità non ci sembra che abbia funzionato benissimo nel nostro paese neanche nelle regioni più ricche anzi in quelle regioni si è aperta una dinamica di privatizzazione che rischia di essere ripetuta per il sistema scolastico noi vogliamo spiegare che cosa significa e che cosa significherebbe una operazione di questa natura dopodiché parleremo anche delle questioni che riguardano il nostro sistema scolastico le emergenze del sistema universitario del sistema della ricerca i punti sono quattro e sono essenzialmente autonomia differenziata precariato risorse e definanziamento e privatizzazione perché anche questo è un tema molto serio che ci preme spiegare non soltanto ai lavoratori e lavoratrici ma ai cittadini e alle cittadine sarà un viaggio lungo finiremo e termineremo a giugno del 2024 2024 bene ragazzi mi sembra che il messaggio è chiaro non si devono allarmare solo i territori del sud i territori più in difficoltà ma mi sembra di capire che un'eventuale autonomia differenziata sempre comunque molto molto caldeggiata da uno dei partiti di governo in particolare dalla lega ecco potrebbe insomma andare a stravolgere sarebbe per la scuola un terremoto che da cui non sarebbero esenti nemmeno le regioni chiamiamole più virtuose io invece poi ritornerei alla protesta adesso della di venerdì 17 e toccherei abbiamo ancora qualche minuto il personale c'è avrebbero motivo di dovrebbero protestare a vostro avviso sia coloro che entrano o vogliono entrare nella scuola sia coloro che vogliono uscire no ecco quindi diciamo che toccate un po tutta la la platea o comunque forse quelli che stanno a metà avrebbero anche loro i loro motivi però ecco soprattutto precari e coloro che speravano di andare in pensione insomma non ci sono e non ci andranno e non ci andranno perché ricordiamo che la quota è altro che abbattere la fornero qui la quota si sta sempre più innalzando anche gli anticipi pensionistici diventano più difficili da raggiungere da centrare e soprattutto con decurtazioni sempre sempre più forti e disincentivanti ecco da questo punto di vista voi cosa chiedete ma guardi una cosa molto semplice i nostri settori vige il precariato di stato perché quando stai parli di 200 mila anzi 220 mila secondo i nostri ultimi calcoli di precari sono nel di posti precari anzi per essere più precisa solo nel sistema di istruzione per poi non contare i ricercatori precari i ragazzi e le ragazze che lavorano nel nostro università sotto varie forme dagli assegni ai contratti ai dottorati che molti di questi tra l'altro collegati al piano nazionale di ripresa resilienza e quindi che termineranno nel 2026 insomma quando è una condizione di questa natura io credo che sarebbe necessario intervenire purtroppo non lo si fa lo sappiamo bene c'è un tema che si chiama stabilizzazione dei posti nel sistema scolastico a partire dal sostegno c'è un tema che si chiama personaleata di questa cifra che ho fatto almeno 50 mila posti sono relativi al personaleata e percentualmente è molto più alta la percentuale molto più alta anche rispetto ai docenti perché lì si sta creando una polla in virtù del fatto che non è possibile fare assunzioni se non nei limiti del turno a seconda questione sicuramente la previdenza perché qui c'erano delle promesse sulla base delle quali questo governo tra l'altro ha anche vinto le elezioni questa compagine di governo vinto le elezioni ci ricordiamo tutti credo riformare la fornero cambiare la fornero cancellare la fornero se da qui a un anno non avremo cancellato la fornero fatemi ci sono delle cose che circolano in rete anche divertenti siamo oggi qui la fornero non è stata cambiata la riforma fornero non è stata cambiata non solo anche la cosiddetta quota 103 che era una specie di toppa non è stata è stata prorogata ma con delle modalità assolutamente penalizzanti quindi credo che abbia un impatto minimale in termini di uscita perché penalizza moltissimo le persone la stessa cosa viene fatta su opzione donna ma in più è stato previsto oltre alla nota vicenda della dell'inalzamento dell'aspettativa di vita e quindi di nuovo riparte come dire il questa rincorsa all'uscita che per non soltanto per quelli che stanno per andare ma anche quelli che vorrebbero andare diventa un obiettivo che si sposta sempre più in avanti c'è anche un tema che riguarda molto concretamente il ricalcolo di una parte del personale della scuola dell'aliquote in caso di pensionamento si tratta di coloro che avevano contributi fino al 95 nei nostri settori impatta come dicevo su una parte del personale della scuola cioè che aveva versato nelle casse cpdl o nella cassa prevedente o nella cpi delle scuole paritarie e i ricercatori degli enti di ricerca questi sono penalizzati moltissimo perché il ricalcolo è come dire immaginemente avete proprio favorevole ma stiamo parlando davvero di diverse migliaia di euro nel corso degli anni fino insomma insomma questo è anche medici che stanno in questa stessa situazione c'è un impegno di queste ore da parte della ministra anche Ron Zulli che ha detto che stanno cercando di rimediare a questo a questa norma e credo che rientri a questo punto anche il personale della scuola questa frangia di personale gli stessi ricercatori perché sarebbe ancora più discriminante se invece dovessero rimanere solo loro in vita per quanto riguarda con noi auspichiamo che se si interviene si intervenga per tutti su tutto ci sono tentativi di dire porre rimedio rispetto soprattutto ai medici che giustamente legittimamente protestano però ci sono anche gli altri perché la platea è abbastanza vasta certo tra l'altro ricordiamo che paradossalmente gli insegnanti di scuola primaria come quelli dell'infanzia e dei nidi eh ecco questa è una piccola conquista anche del sindacato hanno ottenuto nell'ultimo periodo l'inclusione nelle categorie eh usuranti che permette attraverso le quali ecco si permette di uscire prima eh a fronte di non grossissime penalizzazioni ecco questo sarebbe veramente un grosso passo indietro per questi insomma migliaia di di lavoratori in grandissima parte donne tra cassa in un minuto quali sono invece le altre motivazioni nella scuola cos'è che quali sono le altre urgenze che bisogna affrontare che finora i vari governi perché ricordiamo insomma abbiamo avuto anche governi di altri colori non mi sembra negli ultimi anni che la situazione sia migliorata ecco tantissimo ecco quali quali sono le altre emergenze ma guardi in un minuto le dico c'è tutto un tema di definanziamento eh se guardiamo le tabelle legate alla legge di bilancio si capisce perfettamente che nei prossimi anni è prevista una riduzione dei risorse per il sistema scolastico e l'altra questione sono queste eh riforme cosiddette riforme che il ministro valditare sta mettendo in campo mi riferisco in particolare alla riforma della filiera tecnico professionale bene fracassi io direi a questo punto di salutarci e di darci appuntamento a eh una fase successiva che sarà quella della risposta del governo alla vostra protesta vediamo se sortirà effetti eh innanzitutto in bocca al lupo per eh il vostro percorso il vostro progetto e e quindi arrivederci a presto a presto grazie mille grazie a tutti